A Mente Fredda è riuscito a metabolizzare quello che siete riusciti a combinare quest'anno? Io ho sempre vissuto la giornata, l'ho detto sempre anche nelle interviste che facevo. L'altra sera mi sono rimesso un po' a guardare le immagini passate. Guardare invece adesso a Mente Lucida e Tranquilla quello che abbiamo fatto effettivamente sono molto soddisfatto io ma penso anche a tutti i giocatori e penso anche a tutti i tifosi di Teramo. Che cosa farà il prossimo anno Vivarini? Da quando sono ragazzo che non riesco mai a programmare il futuro. Nel calcio non bisogna mai programmare, bisogna mai stare a fare dei discorsi. Bisogna vedere quello che arriverà, bisogna vedere i programmi del Teramo prima di tutto perché è chiaro che io sto vicino casa, sono stato bene a Teramo in questi due anni, abbiamo vinto due campionati e la gente mi vuole bene, quindi è chiaro che sono cose che contano per me. Diciamo che bisogna sedersi un attimino con il Presidente per vedere un po' tutte le cose che ci sta da vedere, ma assolutamente io mi sento del Teramo e adesso dobbiamo divertirci perché penso che ce lo siamo meritati. Della partita con l'Ascoli, ne vogliamo parlare? Ma sai, adesso è difficile anche trovare... Io stamattina ho guardato l'Ascoli, ho guardato contro l'Ancona, contro Sant'Arcangelo, ho visto le partite, ho preparato i filmati, ho preparato quello che c'è da fare in questa partita qui, però proporlo adesso alla squadra nel modo giusto, con la cattiveria giusta, insomma si fa fatica, però io sono un confido su una cosa, che questa è una squadra di giocatori eccezionali, l'hanno dimostrato e loro sicuramente avranno la rabbia e la voglia di fare una prestazione importante, speriamo che ci divertiamo anche sabato. Quante volte si è sentito dire la parola grazie in questi giorni? No, tanti complimenti, tanti complimenti che io approfitto anche da queste interviste per ringraziare tutti i complimenti che ricevo, sempre con la consapevolezza che solo il calcio ti può dare queste gioie, perché effettivamente sono gioie immense, ripeto, io ripeto l'entusiasmo che c'è, quello che abbiamo trovato quando siamo tornati da Savona è stato qualcosa di straordinario, però con la consapevolezza che bisogna sempre rimanere molto tranquilli, molto con i piedi per terra, perché nel calcio è vero che ti riesci a dare queste grandi emozioni, questo stato di esaltazione, però nello stesso tempo ti può anche dare grandi amarezze. Grazie.